gentili telespettatori buona giornata la nave ong geobarenz arriva in porto ma in porto spunta anche michele emiliano che cosa va a fare il presidente di una regione al porto dove arriva una nave delle organizzazioni non governative con dei clandestini a bordo beh lui va ad esprimere una sua profonda riflessione che oggi vi comunicherò e cercheremo anche di commentare la geobarenz è una nave ong di medici senza frontiere sbarca a brindisi con 339 persone di questi due trasferiti in ospedale vabbè eccetera eccetera chi è positivo al covid insomma come tutte le navi arrivate delle ong ci sono diversi casi casi diversi i migranti poi sbarcati hanno raggiunto i centri già individuati dal ministero dell'interno tra lombardia veneto piemonte ed emilia romagna ma cosa ci fa michele emiliano al porto dice oggi commenta appunto michele emiliano che è presidente della regione puglia giunto al porto di brindisi a metà mattinata c'è un'efficienza straordinaria dello stato ma gli sbarchi organizzati in questa maniera si possono evitare avete capito emiliano ha trovato la soluzione ha trovato la soluzione arrivano 339 persone in maniera clandestina lui dice io ho la soluzione e la soluzione è questa per evitare l'illegalità all'arrivo di queste persone essere di definite come illegali si può assolutamente risolvere la questione praticamente rendendo tutto legale se rendi tutto legale allora cambia tutto dice questi scafisti si combattono rendendo legale il viaggio vigendo la bossi fini riescono a inserirsi a guadagnare e a guadagnare denaro come fanno per tante altre cose il recupero di queste persone miracoloso bisognerebbe poter fare richieste di passaporti presso le ambasciate dei paesi in cui vogliono andare senza rischi senza attraversare il mare in tempesta quindi fanno questi viaggi per comunque arrivare in maniera clandestina in italia o in altre parti per michele emiliano è semplice basta farli arrivare non con le barche magari con l'aereo in maniera legale arrivano e poi li mandi a lavorare nei campi a fare quei lavori che gli italiani non vogliono più fare quindi lui ha un'idea ancora più avanti del flusso migratorio il flusso di migratori sono una sanatoria perché già qua lui dice beh piuttosto che fare la sanatoria li facciamo venire in maniera legale e se tu vuoi venire ti porto io vieni ti do i documenti richiediamo i documenti al tuo paese stai qui e ti mando a lavorare nei campi per 12 ore al giorno con la schiena curva per 3 euro all'ora 24 25 euro alla giornata e così potrai avere a fine mese un bello stipendio da povertà lavorativa da fame ecco così troviamo anche la soluzione agli italiani che non vogliono essere sfruttati con stipendi da fame e che facciamo gli italiani li lasciamo stare mancano persone per lavorare le andiamo a prendere fuori dall'europa senza farle partire andiamo direttamente noi a prenderle e così creiamo la nuova schiavitù lavorativa del nuovo millennio ecco secondo voi questa è una soluzione che possiamo definire normale arrivano clandestini fermi stati lì al vostro paese vi veniamo a prendere noi in maniera tutta legale poi vi mandiamo ad essere vi mandiamo a lavorare nei campi sfruttamento e così aumentiamo quelle che sono delle pratiche illegali perché sotto pagare le persone con certi stipendi e trasformarli da poveri in lavoratori poveri perché tu li prendi che non hanno niente li metti a lavorare gli dai talmente poco che comunque non hanno niente lo stesso perché quello che prendono serve solo per sopravvivere e così questo è la soluzione del governatore della Puglia Emiliano una soluzione a dir poco geniale mi vengono i brividi solo a commentarvi questa genialata che potrebbe dargli il premio Nobel ecco e così Emiliano lancia un appello al governo per battere gli scafisti bisogna fare in modo che partenze arrivi non siano un reato e tu dici arrivano arrivano un milione di persone vabbè basta dire che non sono illegali e hai risolto il problema non vi sembra normale non vi sembra normale arrivano un milione di persone vabbè tu dici che sono illegali prova a dire che sono legali e quindi non arrivano più un milione di persone in maniera illegale non fa una grinza ecco basta dire che non è un reato che è una cosa assolutamente legale e così hai eliminato l'immigrazione illegale realizzando la profilatura dei lavori che servono e concedendo a queste persone il tempo necessario sul territorio nazionale per verificare se riescono a rimanere essendoci un bisogno lavorativo e una possibilità di integrazione non so voi ma io sono rimasto così colpito da questa soluzione che sono rimasto perplesso per tutta la giornata caspita Emiliano ha trovato la soluzione arrivano centomila illegali basta dire che sono legali è finita li obblighi a lavorare nei campi sottopagati basta quindi arrivano tu li imprigioni e li mandi a praticamente fare dei lavori sofforzati sottopagati beh un genio assoluto grazie a tutti arrivederci